Che situazione hai trovato una volta arrivato lì? Era quello che ti aspettavi oppure no? Beh sì, in ospedale me l'aspettavo di trovare questo sovraffollamento di persone che purtroppo non avendo la capienza adatta ad un'emergenza simile l'ospedale si è sentito un po' riempito, un po' ingolfato da questa circostanza, le persone stavano in corridoio. Diciamo che era uno scenario che più o meno avevo immaginato, tant'è che hanno anche una volta riempito l'ospedale intero di persone positive al covid hanno dovuto aprire anche un ospedale militare davanti al parcheggio dell'ospedale in cui ora da pochi giorni sono arrivati in aiuto i medici cubani, gli infermieri con cui mi sono messo subito a lavorare insieme a loro, più per la lingua che per altro. Comunque c'è un minimo di barriera, di difficoltà nel poter interloquire tra loro e i pazienti, che chiaramente molti loro magari non parlano l'inglese, i pazienti stessi o lo spagnolo, per cui c'è sempre bisogno di qualcuno che stia con loro, insomma, anche per inizializzare un po' il lavoro, che anche per loro era nuovo, così come lo è stato per me. Pur essendo stravolto dalla stanchezza dopo questi turni astenuanti, sono con l'animo carico e pronto a dare il mio supporto a queste persone che hanno bisogno non solo di un supporto ventilatorio, ma anche di un supporto emotivo, in quanto si ritrovano molto spesso da soli, non potendo, insomma, vedere le proprie famiglie fuori dall'ospedale, che stanno fuori dall'ospedale per, insomma, il rischio contagio che potrebbero avere. A proposito di rischio contagio, tu hai mai avuto paura? Hai paura quando vai a lavorare? Oppure pensi soltanto alla tua missione e basta? Beh, sì, all'inizio sì, quando sono arrivato, quando sono stato affiancato a diversi medici, ero lì in sala visite, nel frattempo c'era una collega infermiera che doveva fare una emogastanalisi e parlava così col medico dicendo Ah sai, ho fatto l'attack, negli ultimi giorni desaturavo, ho avuto difficoltà respiratorie ed era nella lista dei pazienti mentre lavorava, ahimè. Infatti, beh, quella cosa, la prima persona con cui ho avuto contatto particolare è stata con questa collega, che me la siamo ritrovata nell'elenco dei pazienti, però stava benone tutto sommato. Insomma, questa cosa mi ha colpito tanto, soprattutto mi ha dato un forte timore di contagiarmi, però poi, stando con i pazienti, dopo qualche ora e vedendo che comunque tutti gli altri colleghi mettono tutto il loro impegno, dimostrano la loro empatia nei confronti dei pazienti, beh, questo mi ha dato forza e coraggio di non temere il contagio, ma chiaramente il timore c'è sempre. Infatti, sono molto preciso con l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene personale, utilizzando i vari dispositivi di protezione individuale. Spero, insomma, che tutto finisca al più presto possibile, chiaramente non perché non abbia voglia di dare una mano, ma chiaramente perché questa emergenza deve finire, deve finire al più presto. Spero che tutti quanti gli italiani capiscano che è necessario stare a casa, perché è l'unico modo per poter contenere questa malattia in questo momento. Grazie a tutti.